Sì, è veramente un dispiacere perché io credo che comunque nel primo tempo abbiamo fatto una buona 35 minuti di principalmente fase offensiva dove in diverse situazioni avremmo potuto concludere meglio nello specchio della loro porta. È un peccato perché grossi interventi oggi io non ne ho dovuti fare, quindi prendere gol così dà fastidio, dà fastidio al lavoro che facciamo settimanalmente, siamo molto amareggiati, abbiamo avuto una riunione con lo staff, col direttore, col presidente adesso in spogliatoio e dobbiamo cercare subito di invertire questa tendenza. È un fattore su cui dovremmo lavorare perché io non ricordo tante occasioni loro a parte due contropiedi, mi viene in mente sì, è vero, forse un possesso palla è un po' sterile, però eravamo sempre nella metà campo loro. Tante volte magari basta un guizzo, basta una situazione che permette di sbloccare la situazione. Loro veramente erano come sono venuti in ritiro, l'avevamo preparata anche in questo modo, di cercare di muovere palla dall'interno all'esterno continuatamente per cercare magari con qualche cross di riuscire a dargli fastidio. Queste tante squadre verranno qua, lo sanno già, si metteranno dietro la linea della palla e aspetteranno veramente una prima nostra defiance che, ripeto, mi dispiace per Andres, sono cose che è brutto a dire ma possono capitare. Come avevo fatto l'errore io nel primo tempo, nell'uscita alta, sono stato fortunato. Andres invece in questo caso non sono riuscito io a dargli una mano e mi dispiace. Tante volte magari posso mettere una pezza in più, però cercheremo di lavorare, non posso veramente dire altro. È la prima partita, dispiace che il pubblico abbia subito reagito in questo modo. Però andiamo avanti, noi dobbiamo dare il 100% e se non dovesse bastare anche di più. No, no, sono cose che rimangono fra di noi e credo che anche la legge dello spogliatoio porti a tenere queste cose per noi. Sicuramente è una domanda difficile da rispondere, ognuno di noi la reagisce nel suo modo. Io da un lato non vedo l'ora di iniziare domani la settimana per preparare al meglio la partita col Genoa. Sappiamo di trovare una squadra forte, preparata, che anche loro ci studieranno. Però per forza di cose, questo campionato probabilmente è uno dei più belli, sarà uno dei più difficili anche degli ultimi 5-6 anni. Quindi rimbocchiamoci le maniche, è l'unica cosa, io conosco solo il lavoro. Se andiamo nel campo di allenamento e diamo veramente tutto, poi i risultati arrivano. Non dobbiamo pensare a calciomercato, mica a calciomercato. Io sono contentissimo di essere qua, come credo quasi tutti i miei compagni. Pensiamo veramente alla partita, pensiamo a dare il massimo e poi alla fine tireremo le somme.